Io avevo pensato di articolare il mio intervento in due fasi, quindi se tu sei d'accordo io adesso mi sto fermando su una fase che riguarda l'intervento di Gabriele, poi nel pomeriggio visto che ci sta anche Damiano e Gianni Gallo magari articolati. Grazie per avermi invitato, per me oggettivamente è veramente un onore Vincenzo, è un onore essere qua perché io come sai ho grandissimo rispetto della vostra organizzazione, grandissimo rispetto e soprattutto stimo molto e apprezzo molto quello che viene fatto, soprattutto per come viene fatto. Qualcuno negli anni passati ha detto che io ce l'avevo coglienti, assolutamente no, io non ce l'ho coglienti, io ce l'ho e ce l'avrò sempre con chi droga il mondo dello sport, io ce l'ho con chi falsifica i dati, con chi fa evidenziare delle situazioni che non sono reali, con chi in realtà si nasconde dietro la veste di associazione sportivo-direttantistica per coprire altre cose. Come diceva giustamente prima Gabriele, noi di fatto siamo tutti terzo settore, cioè siamo tutti volontariato, siamo tutti promozione sociale, le federazioni, gli enti, no? L'obiettivo è quello di portare avanti lo sport, di portarlo avanti per quanto riguarda noi ovviamente come coni, nella maniera più pulita, più lecita possibile. Determinate cose non si possono più vedere, non si possono più sentire, determinati dati non si possono più leggere, gridano vendetta e questo credo che stiamo d'accordo tutti. Qualcuno stamattina, credo il Presidente regionale della Lombardia, ha fatto un intervento, mi è piaciuto molto, ma ci sono alcuni punti che mi ero segnato e a cui volevo rispondere. Allora, primo, le discipline, mi si dice non è ben chiaro perché sono state tagliate le discipline. Forse non è stato spiegato bene e quindi colgo questa occasione per spiegarla bene, mi sembra il contesto adatto. Non è che sono state tagliate le discipline. Dovete sapere che nel registro c'erano 7.000 discipline. Ci mancava poco che entrasse nel registro e che desse il diritto a essere registrata come associazione sportiva direttantistica e quindi come disciplina sportiva direttantistica, il ballo vicino al palo che solitamente si chiama l'appadenza, no, anche quella può essere un'attività fisica, non sto lì, ci sta chi fa la ginnastica, chi fa le parallele, ci sta chi fa l'appadenza. Ci mancava poco, anzi credo che ci fosse, qualche disciplina tipo il paintball, mi sembrano. Insomma c'erano una serie di discipline, pensate che eravamo arrivati a 7.000, perché ognuno pur di fare numero, pur di buttare dentro, pur di far vedere che faceva qualcosa, inseriva discipline. Ma noi non siamo lì per inserire discipline, noi siamo lì per fare sport. Io credo molto in questa distinzione tra quello che deve fare il CONI e quello che deve fare il terzo settore. Sono due binari paralleli che si intersegano, ma sono dei compiti diversi. Il CONI deve fare sport, allora per fare sport devi identificare le discipline. La logica è stata quella, visto che non c'è una definizione di sport in Italia e non c'è la possibilità di individuarlo in maniera oggettiva, allora l'unica oggettività era quello di fare riferimento alle discipline riconosciute dal CIO, che è il Comitato Olimpico Internazionale. A cascata riconoscere quelle riconosciute dal GAIF, che è il secondo organismo a livello mondiale per quanto riguarda lo sport. E poi sono state riconosciute quelle discipline che magari erano presenti negli statuti di federazioni e discipline sportive associate, che erano stati oggetto di approvazione espressa da parte del Consiglio Nazionale. Stop. E siamo arrivati a 386 discipline. Non vuol dire che altre attività, ogni tanto qualcuno mi cita lo yoga, il pilates, non è che queste non sono attività degne di attenzione o degne di nota, ma non sono delle discipline riconosciute né da federazioni, né dal CIO, né dal GASP. E quindi di conseguenza quando tu fai una griglia e fissi dei principi, per una questione di serietà, questi principi li devi rispettare, altrimenti perde senso tutto il registro. Credo che l'apertura del terzo settore ecco oggi dia spazio a queste discipline, a quelle che definiamo comunemente discipline olistiche. Però anche là, secondo me, bisogna fare attenzione, perché sapete, voi che operate sul territorio, quanto e più di me, tante cose sono servite solamente per coprire attività commerciali. Quindi credo che sia importante, e questo l'ho già detto, credo che l'ho già detto a Gabriele, che anche là decliniamo dei principi. Se una disciplina è sportiva, anche se non riconosciuta dal CIO, se una disciplina fa bene al fisico, fa bene alla salute, fa bene alle persone di qualunque età, dai 0 a 100 anni, forse è giusto che la identifichiamo, ma che la identifichiamo con il contributo del soggetto deputato a definire quali sono le attività che fanno bene alla salute. Il soggetto deputato, secondo me, è il Ministero della Salute. Non è compito del CONI decidere se una disciplina lo è o non lo è, è compito del Ministero della Salute. Perché il registro? Perché il registro 2.0? Perché vedete, quando entri nel registro, forse sfugge una cosa che è importante e sulla base del quale poi dovremmo fare un lavoro molto attento, insieme con Gabriele e insieme con tutti gli altri soggetti di questo mondo. Allora, il registro 2.0 nasce dalla necessità di dare specificità a quello che la legge, appena 15 anni fa, aveva delegato al CONI, e cioè il riconoscimento dell'attività sportivo direttantistica di un'associazione. Ma come faccio io a riconoscere un'associazione se non so che attività svolge? Come faccio io a dire che quell'associazione con quei tesserati, con quei numeri di tesserati, riesce effettivamente, fa effettivamente attività sportive direttantistica? Io sentivo che giustamente c'erano delle osservazioni su alcuni numeri che non sono riscontrati, c'erano delle osservazioni sulle associazioni di secondo livello. Io lo dico con forza, ma da sempre, le associazioni di secondo livello sono una vergogna, sono una vergogna del mondo sportivo, non si possono più sentire, non si possono più attollerare. Allora il registro della sua struttura attuale che cosa prevede? Provede innanzitutto che io possa identificare l'associazione sportiva, col codice fiscale, col suo statuto, verificare se è in regola. È certo che è un lavoro, è un lavoraccio, è stato un lavoraccio da parte degli organismi affilienti. Un lavoro che forse non è ancora completato, non è ancora compiuto, come un lavoro importante, perché vedete non è un problema, anzi io devo dire, posso essere testimone diretto e credo anche abbastanza affidabile, che gli enti erano quelli più organizzati, che gli enti di promozione sportiva erano quelli che forse avevano alcuni enti, però io dico gli enti, non mi fate fare nomi e cognomi perché voi dopo, diciamo gran parte degli enti, tra cui il vostro, mettiamola così. Allora gran parte degli enti erano già in linea, già avevano gli statuti, già avevano gli statuti con le norme adeguate all'articolo 90 della 289 all'articolo 148 del testo unico dei redditi. Ma perché era importante? Perché noi siamo partiti dal presupposto che, vedete, noi non dobbiamo salvaguardare noi. Le agevolazioni fiscali e previdenziali previste per il mondo dello sport sono qualcosa di eccezionale, dobbiamo stare attenti a tutelarle, perché è un attimo a revocarcele, esattamente un attimo, perché non sono i 400 milioni di euro, e qua poi magari oggi pomeriggio faremo un discorso più approfondito, perché secondo me, a me mi scappa da ridere, mi scappa da ridere quando sento che con questi 400 milioni di euro facciamo chissà che cosa, devono soldi alle associazioni, no? Facciamo, poi non abbiamo le palestre. Allora noi ci preoccupiamo dei soldi alle associazioni, però non abbiamo le palestre, non è che non facciamo sport perché non abbiamo le palestre, non facciamo sport perché non diamo i 10 euro all'associazione sportiva. 400 milioni di euro non sono niente, considerate che più di un terzo di questi 400 milioni di euro servono per pagare gli stipendi di tutti i dipendenti delle federazioni, del CONI, di pagare le spese fisse del CONI, quindi alla fine cosa rimane? Rimane poco. Allora quando si parla di questi 411 milioni di euro, come se fossero da questi chissà che cosa dobbiamo tirare fuori mi sembra un po' il palto di Totò, non so se ve lo ricordate, miseria e nobiltà, quando dice questo è il palto, tu vai e poi passando passando prendi pure il sigaro e quello dice ma non è che questo fosse il palto di Napoleone, io non lo so, quindi chissà quanto va. Allora mi sembra un po' il palto di Napoleone. Il problema non è quello, il problema è che il mondo sportivo gode di agevolazioni fiscali e previdenziali che non sono previste da nessun settore, come diceva Gabriele siamo il 5% del prodotto interno lordo, questo 5% del prodotto interno lordo non paga imposte o le paga in maniera molto limitata e questo perché le paga in maniera limitata? Perché noi non paghiamo i contributi sulle collaborazioni? Noi pensiamo che sia scontato ma non è scontato, un istruttore che viene nella nostra associazione sportiva sostanzialmente sta svolgendo un'attività che è perfettamente uguale a quella di un lavoratore dipendente. Però noi diamo per scontato che non debba pagare contributi, diamo per scontato che non si debbano pagare ritenute. Ma perché? Perché abbiamo questa agevolazione? Perché quello che risparmiamo in termini di imposte dirette e in termini di contributi previdenziali va reinvestito nello sport? Perché si parte dal presupposto che grazie a queste agevolazioni io posso consentire a un ragazzino di entrare in una palestra anche se appartiene ad una famiglia meno ambiente e poter pagare 30 euro per fare sport. Nel momento in cui invece queste agevolazioni vengono interpretate come un modo per evadere le imposte e per portarmi, mettermi dei soldi in tasca e allora questo non è più possibile. Allora io ho il dovere, secondo me, prima da cittadino e poi da rappresentante del CONI, rappresentante del mondo sportivo, di far emergere questi fenomeni e di isolarli. Allora col registro 2.0 sostanzialmente noi siamo partiti da identificare le associazioni, identificare i rappresentanti legali delle associazioni, identificare i consigli direttivi, incrociare questi dati con l'agenzia delle entrate, identificare i tesserati, perché vedete il mondo della promozione sportiva è promozione sportiva ed è contemporaneamente promozione sociale. Perché noi non possiamo prescindere dai due registri? Perché col registro CONI noi abbiamo il riconoscimento come promozione sportiva, come attività sportiva, ma non abbiamo quella di promozione sociale. Per avere quella di promozione sociale in un'associazione si è iscriverà nel registro del terzo settore. L'iscrizione come promozione sociale è importante perché vedete, diciamo la somministrazione, che poi è stata secondo me fuoriera di tanti problemi, perché hanno scosto bar, attività commerciali, però diciamo la somministrazione, parliamo sempre delle cose fisiologiche, ma soprattutto la possibilità di utilizzare degli impianti e delle strutture che non hanno una destinazione urbanistica consono all'attività sportiva. Questo è un grande vantaggio che noi spesso sottovalutiamo. Io posso fare una palestra in un appartamento se sono promozione sociale, se sono solamente sport io non lo posso fare in un appartamento, non posso farlo in un garage, devo farlo necessariamente in una struttura che ha una destinazione urbanistica come impianto sportivo. E quante sono? Sono pochissime, quindi significherebbe non poter più fare sport. O per tanti significherebbe rinunciare. Quindi è normale che noi dobbiamo salvaguardare queste due realtà. È normale che noi col registro dovevamo dare una certezza. Il registro nel 2018 ha fatto un censimento, di fatto è un censimento, un'analisi, tutti i dati inseriti, ma inseriti nell'interesse dell'associazione sportiva. La seconda fase è quella che tu mi dovrai dimostrare. L'attività sportiva didattico-formativa che svolgi. Vedete, è uscito fuori dal registro un'associazione, questo è il caso limite, che aveva una sede, io lo dico sempre perché è il caso limite, proprio per far capire, un'associazione che aveva sede, Vincenzo, negli appennini marchigiani, dove tutto il comprensorio, probabilmente comprese gli animali domestici, secondo me arrivava a 700-800 unità. Questa associazione contava 10.000 tesserati. Capite che qualche dubbio viene? Allora quando dichiariamo numeri, i numeri non li dobbiamo dichiarare, i numeri li dobbiamo verificare. L'obbligo e il compito del registro del CONI oggi, per come è strutturato, è quello di dimostrare i numeri. Non basta che io faccia l'autocertificazione dicendo che ho un milione e mezzo di tesserati, non basta che io metto lì delle attività sportive dove quando vado autocertifico e poi vado a vedere e dico ma tutta sta gente dove sta? Devo dimostrarlo con i numeri del registro, devo comunicare al registro le attività sportive, quindi tutti coloro che si sono iscritti alle mie gare, di qualsiasi tipo, che siano federazioni, siano di quelle degli enti, siano quelle delle discipline associate, le attività formative. Tanti mi stanno dicendo ma sai le attività formative, didattiche, sono difficili per noi da inserire eccetera eccetera, e io dico ma se fai un corso per i ragazzini, tu di testere i ragazzini, sì, è un problema di software, lo risolviamo, è un problema informatico, ma io devo sapere se tu veramente organizzi i corsi didattici, io devo sapere questa gente che tu dichiari di avere come tesserati che attività svolgono in base ai tuoi programmi sportivi, perché ti devo scensire. Io credo, vedete che dalle mie parti si dice che la verità non teme i tuoni e io credo che la verità non teme la trasparenza, se uno è corretto è giusto che emerga la correttezza, è giusto che emerga la reale attività che si fa. Poi voi mi potete chiedere quanto ci metteremo per arrivare a pieno regime, credo ci metteremo un anno, ci metteremo un anno e mezzo, dipende da quelli che sono i tempi, ma non è importante quanto ci mettiamo, è importante che noi ci crediamo nello strumento, è importante che tutti quanti noi crediamo nell'obbligo di fare pulizia e di dare trasparenza a questo mondo. Voi siete ad esempio lampante, abbiamo parlato di riserva con Vincenzo, siete ad esempio lampante di un ente che opera con trasparenza, certo le mele marce ce le abbiamo tutti, la pulizia la dobbiamo fare tutti, c'è sempre qualcuno che soprattutto in una grandissima organizzazione come può essere la vostra, come può essere quella di qualche altra federazione, magari può non comportarsi correttamente, ma la volontà di fare pulizia è importante, che io perda dei numeri per fare pulizia mi sta bene, non mi sta bene se questi stessi numeri vengono recuperati da qualche altra parte e acquisiscono dignità da qualche altra parte, allora vuol dire che non mi sta bene, vuol dire che non può funzionare, vuol dire che se vanno via da me perché li caccio non possono trovare ospitalità da qualche altra parte. Allora dobbiamo assolutamente dal mio punto di vista continuare su questa strada, costerà tempo, costerà fatica, probabilmente costerà qualche investimento, però dobbiamo continuare su questa strada per due motivi. Primo perché tante nostre associazioni non hanno la personalità giuridica e quindi noi non possiamo lasciare le nostre associazioni, noi come organismi affilianti, a questo punto per me non esiste differenza enti, federazioni, dicimi associati, noi siamo degli organismi affilianti, abbiamo l'obbligo, assolutamente l'obbligo di tutelare le nostre associazioni, di guidarle in un percorso virtuoso. Se una nostra associazione ha uno statuto che non è in regola e che quindi di conseguenza non gli darebbe diritto ad avere le agevolazioni fiscali, domani mattina si trova ad avere un accertamento che glieli revoca e condanna il Presidente dell'Associazione a pagare centinaia di migliaia di euro, perché vedete parliamo di centinaia di migliaia di euro, basta la revoca di una 398, una decadenza come associazione sportiva per far diventare commerciali anche tutte le quote di iscrizione, anche tutte le quote di affiliazione. Commerciali quindi significa che se io in un anno ho incassato 200.000 euro di quote di iscrizione o di qualche piccolo provento commerciale, quei 200.000 euro si trasformano automaticamente in 48.000 euro di imposte, si trasformano in 10.000 euro di IRAP, solamente di imposte, stiamo a 60.000, si trasformano quei 200.000 euro in 40.000 euro di IVA da pagare, fatevi conti già siamo a 100 o 200.000 euro di entrate, siamo a 100.000 solamente di imposte e vase, poi ci sono le sanzioni, ce l'ho messa a presentazione, quindi si raddoppiano e siamo arrivati a 200.000, poi la revoca di tutti i benefici sui compensi sportivi, con sanzioni per lavoro nero, dove sapete che c'è la sanzione per ogni giorno, cioè per il semplice fatto che uno statuto non è in regola o che io non ho aiutato la mia associazione nel momento in cui si affilia a compiere un percorso virtuoso, io espongo il presidente dell'associazione, che magari è un pensionato e uno che lo fa per passione, come lo fate per passione tutti immagino, a un rischio enorme. Noi come organismi affilianti secondo me abbiamo l'obbligo, la perdo un'affiliazione e la perdo, perderò dei numeri e li perdo. Lo sport italiano dichiara 12 milioni di tesserati. Sentite, io sarò impopolare, sarò uno che è scomodo, ma 12 milioni su 60 milioni di abitanti significa una persona ogni 5. Togliamo i bambini fino a 6 anni, togliamo gli anziani. Vuol dire che sostanzialmente persone adulte dai 15 ai 60 anni, stiamo parlando di un soggetto ogni 3. Io vi invito a contarvi nel vostro condominio un fatto statistico, vediamo se un soggetto ogni 3 pratica sport direttantistico. E allora forse c'è qualcosa in questi numeri che non va, forse c'è qualcosa in questi numeri che va, come dire, aggiornato, va fatto un discorso serio. E qua dobbiamo essere secondo me i compatti tutti. Per i clienti era stato previsto un programma, come dire, provvisorio, in attesa che fosse entrato in vigore e fosse veramente funzionale il registro. Devo dire che gli enti poi sono subito dati da fare e hanno inserito i tuoi dati. Ma non basta che io ti comunico l'attività, perché quando io ti comunico l'attività te la sto autocertificando. Perdonatemi, io ho le autocertificazioni e non ci credo. Io nella vita faccio il commercialista, io non autocertifico, io guardo i numeri. Io guardo i numeri e li voglio vedere incrociati. Allora se mi dici che hai 10 atleti nella tua associazione sportiva, se mi dici che hai 10 tesserati nella tua associazione sportiva, io voglio sapere esattamente che fanno. Perché se sono clienti del bar, se sono clienti del ristorante, se è gente che è cliente di una palestra, perché è un cliente, non è né un tesserato che pratica sport, né un socio dell'associazione sportiva, allora per me devi stare fuori e non puoi usufruire dei benefici fiscali. È una cosa troppo importante. I benefici fiscali che noi abbiamo sono paragonabili alle pensioni di invalidità. Io non tolgo le pensioni di invalidità perché ci sta qualcuno che ne abusa. Io vado ad attaccare quello che ne abusa e noi con lo registro abbiamo questo strumento. Dobbiamo lavorarci, dobbiamo implementarlo. Il problema, e qua mi collego al discorso di Gabriele, è che chiaramente c'è una normativa fiscale differente per lo sport e per il terzo settore. Ci sono dei dubbi da risolvere. C'è la necessità, c'è assolutamente la necessità di far dialogare i due registri. Perché c'è tanta attività di promozione sociale che è giusto che risulti nel registro del terzo settore. C'è tanta attività sportiva che è giusto che risulti nel registro CONI, perché senza l'iscrizione nel registro CONI un'associazione non può essere affiliata ad un organismo affiliante del CONI, quindi non la posso affiliare come WISP, non la posso affiliare come FIBIS, non la posso affiliare, scusate io le federazioni non le posso citare, quindi non la posso affiliare come federazione, magari qualcuno si può sentire coinvolto e poi dopo. E se non la posso affiliare che vuol dire che io non faccio sport? Non so se è chiaro. Allora io devo dare la possibilità all'associazione sportiva per l'attività sportiva di entrare nel registro CONI, per l'attività, chiamiamola sportiva sociale di promozione nel registro del terzo settore. Quello ci darebbe la possibilità di aprire anche a tutte quelle discipline che sono uscite dal registro perché non ritenute riconosciute a livello CIO o a livello di Consiglio Nazionale, mi consentirebbe di farle rientrare. Stiamo attenti però, dico solamente, a far rientrare quelle che sono veramente discipline di benessere fisico o discipline, altrimenti ci troveremo di tutto. Correremo il rischio che quello che abbiamo fatto uscire dalla porta per fare un minimo di dare trasparenza, non voglio dire di pulizia, ci ritroviamo che rientrano dalla finestra. Allora il nostro impegno Gabriele deve essere quello anche di dare, di declinare con precisione quali sono le attività sportive che sono riconosciute sportive ai fini del terzo settore, settore sociale. Il resto ve lo dico oggi pomeriggio. Grazie.